quando c'è un'umidità di controspinta sotto come vedi la resina comincia a distaccarsi dal sottofondo senti che suona vuoto e arriva fino a scoppiare ecco qua perché c'è successa questa cosa? c'è successa perché ciao a tutti amici di Artepiana oggi voglio parlare di un argomento un po' differente da quello che riguarda l'aspetto pratico della posa della resina o di altri pavimenti rimaniamo comunque nell'ambito della resina e voglio parlarvi di una problematica che se non è tenuta sotto controllo può creare grosse difficoltà e grossi problemi nel medio-lungo periodo qualora andassi ad applicare una resina su di un pavimento la problematica è quella dovuta all'umidità di risalita per cui ne parliamo subito dopo niente perché la sigla l'ho tolta quindi ne parliamo subito questi problemi di umidità di risalita possono nel tempo provocare dei problemi seri alla resina che è stata posata sul pavimento allora iniziamo col dire questo che quando viene posata una resina sul pavimento questa rende come abbiamo già detto più volte impermeabile la superficie che cosa vuol dire questo? che le resine appunto come i microcementi possono essere posati in ambienti umidi come vasche da bagno, piatti doccia, bagni turchi e via dicendo proprio perché vengono trattate in maniera tale che sulla superficie non vi sia possibilità che l'acqua possa essere assorbita dal materiale stesso quindi dalla resina o dal microcemento stesso per fare questa cosa viene fatto un trattamento questo trattamento è quello famoso che noi poi vediamo all'opera anche quando andiamo a fare le prove dei test quindi quando ti vado a versare sopra l'alcol la candeggina eccetera perché il pavimento non si danneggia? per il semplice fatto perché sopra viene messa questa patina che è una patina a base di resine poliuretaniche che bloccano qualsiasi tipo di assorbenza poi nei confronti dell'alcol alcuni tipi sono un po' meno resistenti ma non resistenti che fanno diventare impermeabile la mattonella scusami il pavimento che hai usato con la resina semplicemente si opacizzano in altri casi come tutti gli altri detersivi che abbiamo utilizzato abbiamo visto utilizzare negli ultimi video diventano assolutamente rifrattari e quindi di conseguenza non li fanno assorbire e questo è un bene perché nel momento in cui io vado a utilizzare la resina in un bagno per esempio e ci cade sopra dell'acqua questa deve rimanere sulla superficie e non deve essere assorbita ora però qual è la controindicazione la controindicazione è che quando io poso la resina quindi diventa impermeabile sotto se sotto ho umidità di risalita piano piano questa umidità di risalita inizierà a spingere la resina fino a farla gonfiare perché chiaramente l'acqua e l'umidità da qualche parte deve sfogare e quel protettivo che noi abbiamo messo sopra fa da tappo però per quanto possa far da tappo ed essere super efficace per l'acqua che cade da sopra è assolutamente inefficiente per l'umidità che spinge da sotto per cui nel giro di qualche giorno o al massimo di qualche settimana se tu hai posato la resina su un pavimento umido ti ritroverai la resina stessa o il microcemento che piano piano si gonfia e poi esplode e ti va a creare tante piccole bolle queste bolle poi che succede che tu continui a farti la doccia o comunque sia lavi il pavimento e ci si infiltra l'acqua l'acqua va a finire sotto la resina e in men che non si dica la resina è da salutare per cui bisogna fare molta attenzione prima che si venga a posare un pavimento in resina proprio sul tipo di superficie e sull'umidità di risalita che è presente nel pavimento adesso se tu abiti a un piano alto tipo un primo piano, un piano rialzato queste cose di cui ti sto per dire probabilmente potranno interessarti pochissimo al massimo ti potranno interessare se hai fatto una gettata di cemento quindi abbiamo un massetto nuovo e dobbiamo controllare l'umidità di risalita perché? perché lo stesso problema di cui ti sto per parlare vale anche se fai una gettata su un massetto nuovo ma se ti trovi in un appartamento in cui abbiamo delle mattonelle o comunque c'è un pavimento in cemento magari hai tolto un parquet sotto c'era il massetto e questo appartamento si trova in un piano alto questo discorso è superfluo perché sicuramente non c'è umidità di risalita se invece ti trovi a un piano terra il campanello dell'arma te lo devi far venire perché nel caso in cui ci fosse umidità poi succede quello che ti ho detto allora per evitare che si possano creare questi problemi ci sono degli strumenti che vanno a fare le rilevazioni un tecnico, un buon tecnico quando si presenta sul cantiere generalmente dovrebbe presentarsi con uno strumento simile a questo che è un igrometro ci sono di diversi tipi questo è uno dei tanti tipi che ci sono questo qui è un igrometro a sfera dove abbiamo appunto questa sfera e qui c'è un display nel quale quando io vengo a casa a fare le rilevazioni sul pavimento lo poggio in questa maniera schiaccio il pulsante qui al centro lo accendo e lui inizia a fare delle rilevazioni dopodiché mi darà delle percentuali che vanno dallo 0,1% fino anche al 7,8,9% questa cosa qui ti indica l'umidità di risalita secondo questo strumento ora per poter posare una resina al massimo tu devi avere un'umidità di risalita per questo strumento per come l'ho tarato io magari tu hai un altro strumento magari se un mio collega hai un altro strumento e quello che ti dico ti risulterà strano per questo strumento per come l'abbiamo tarato noi fino al 3,5% massimo 4% io posso posare una resina sopra quella percentuale è sconsigliato farlo perché comunque sia il rischio che succeda quello che ti stavo dicendo è molto molto alto nei casi in cui abbiamo dei dubbi possiamo comunque utilizzare un altro tipo di strumento che è molto più complesso molto più articolato ma soprattutto è lo strumento riconosciuto a livello legale come l'unico che può rilevare l'umidità di risalita quindi semmai ci fossero delle controversie legali e tu chiamassi un perito il perito si presenterebbe a casa tua con questa valigetta all'interno di questa valigetta che cosa abbiamo? abbiamo quello che viene chiamato igrometro a carburo ed è la versione seria di questa qua o meglio non è che questa non sia seria perché io lavoro 95% dei preventivi ti vado a fare con questo qua però diciamo questa qui è la versione che mi dà la prova del 9 quando questo strumento mi fa venire qualche dubbio allora ci dobbiamo armare di santa pazienza e adesso ti dico pure il motivo e andiamo a fare la misurazione con questo strumento qua sostanzialmente in questo strumento troviamo uno shaker che poi ha un tappo con dei bar viene messo così tu chiudi e lo agiti prima di agitarlo che cosa fai? vai a mettere all'interno guarda guarda che figata qua tu c'hai un piattino c'hai poi un una mazzetta uno scalpello metto qua e poi c'hai una bilancia graduata che è questa qui sostanzialmente guarda la cosa che devi fare è non so metti tutto tutto sopra la cosa che devi fare è con mazzetta e scalpello intervieni e rompi il massetto sul quale vuoi fare la rilevazione e devi scendere almeno devi raccogliere la polvere di cemento che non è quella superficiale ma è quella che sta a una profondità di almeno 5 cm e posso assicurarti che fare questa operazione è veramente un'ammazzata se sei un mio collega e hai fatto questa rilevazione scrivimi nei commenti se non dico se dico una pesseria perché io ogni volta che la faccio sudo 7 camice allora tu potresti dirmi ma fai col trapano scendi a 7 cm a 5 cm e poi ti rifori la polvere che c'è no non lo puoi fare perché il trapano riscalda nella rotazione il cemento e quindi ti fai evaporare l'umidità eventuale che c'è quindi ti da una misurazione sfalsata quindi noi abbiamo raccolto la nostra polvere di cemento l'abbiamo pesata in base al peso la inserisco qui dentro e sempre qui dentro vado a mettere una fialetta che è questa con dentro appunto del carburo la fialetta la metto intera la metto dentro e poi all'interno metto anche delle sfere delle sfere di metallo che stanno qua eccole qua quindi che cosa faccio shaker letteralmente il contenuto dentro dopodiché questo per mi sembra che debba essere fatto per 4 o 5 minuti quindi comunque una cosa abbastanza importante ora sinceramente tutti i dettagli un po' che non lo faccio non me li ricordo bene ma tanto c'è ogni volta che lo utilizziamo c'è comunque l'immanuale di istruzioni che rileggiamo sempre molto volentieri sperando sempre che ci dica che non dobbiamo prendere la polvere a 5 cm ma puntualmente invece ci dice così quindi shakeri tutto quanto e poi piano piano emetterà dei vapori all'interno che faranno alzare la lancetta che vedi qui in base al quantitativo di polvere che hai messo al tempo che no al quantitativo di polvere che hai messo questa lancetta ti segnerà vedi a diverse scale graduate che variano in base alla polvere al quantitativo che hai messo questa lancetta ti darà una percentuale e in base a quella percentuale tu sei sicuro che ci sia o meno umidità di risalita sul pavimento quando questo qui ti ha dato la misurazione se hai fatto tutto come dovresti fare allora può stare tranquillo che legge se ti dice che c'è umidità stai tranquillo al 100% che c'è umidità se ti dice che non c'è umidità puoi stare sicuro che non c'è umidità zero zero dubbi poi c'è ancora un altro strumento che puoi andare ad utilizzare che noi qui abbiamo che questo serve più che altro per allora la prova del 9 ce l'hai con quello là diciamo che questa qui serve per capire se l'ambiente in cui stai e dove vai a lavorare c'è comunque sotto possono esserci dei punti delle falde oppure dei punti in cui l'acqua si è raggruppata ed è la telecamera termica pagata un fottio che però pure questa qui è utilissima perché perché tu la punti sul nella zona che vuoi misurare questa io la utilizzo spessissimo quando vado a fare le impermeabilizzazioni e vedi ti faccio vedere un po' ecco qua vedi ciao sono io e questa qui rileva il calore in base al calore che ha rilevato di riterarla in una determinata maniera ti fa capire prendiamola che tanto ti fa capire che se c'è umidità in quella porzione di pavimento o se non c'è umidità in quella porzione di pavimento per cui questi sono i tre strumenti fondamentali che un buon tecnico dovrebbe avere con sé la telecamera termica forse è un po' eccessiva però il crometro a carburo il crometro a sfera o comunque sia un'alternativa dell'icrometro a sfera se vengono a casa tua a farti un sopralluogo lo dovrebbero utilizzare così siamo sicuri perché altrimenti ti assicuro che la resina è antipatica è importante misurare l'umidità di risalita proprio per questo perché se tu vuoi fare una gettata di cemento ex novo quindi vai a fare un massetto questo vale anche se monti un parquet paro paro vai a fare un massetto non deve esserci l'umidità di risalita perché altrimenti ti crea questo problema se hai un parquet il parquet si gonfia se hai la resina la resina scoppia e quindi poi butti tutto quanto pure il parquet stesso discorso butti pure il parquet lo devi andare a sostituire ok Guido quindi non favo la resina no ci sono delle soluzioni che possono essere adottate sostanzialmente nel momento in cui tu hai umidità di risalita in base ai bar di controspinta dell'umidità di risalita puoi andare a fare quella che viene chiamata barriera vapore che cos'è la barriera vapore tu immagina che ci abbiamo sempre il nostro pavimento in resina quindi tra massetto e posa della resina qui in mezzo parliamo di micron non parliamo di centimetri qui in mezzo viene posato un materiale che può essere liquido adesso sono uscite delle barriere vapore barriere vapore liquide ma altrimenti sono una sorta di malta cementizia che vengono stese sul pavimento e vanno a creare un tappo che blocca l'umidità quindi questi materiali che sono tricomponenti fanno sì che che l'umidità di risalita non venga cioè abbia una controspinta sufficiente a far sì che questa umidità di risalita non sfoci verso l'alto non è che la elimini perché se è tanta l'umidità di risalita piano 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 cammina e ti va a sfociare sulle pareti dove sicuramente già hai umidità di risalita però quantomeno sul pavimento non avrai più questi problemi tant'è vero che noi quando andiamo a fare questi tipi di lavorazione vediamo che c'è l'umidità di risalita mettiamo subito la barriera vapore sia quando montiamo il parquet sia quando andiamo a fare le resine e ce ne freghiamo per cui questo è quello che devi sapere nel caso in cui andassi a posare una resina o volessi posare una resina che so in un sottoscala in una zona particolarmente umida proprio 5 minuti fa prima di registrare il video una signora mi ha mandato un messaggio qui su youtube nel quale appunto mi diceva guarda siamo viviamo in Valpatana e vorremmo fare un lavoro su un pavimento ma è molto umido che cosa dobbiamo fare? ecco te l'ho spiegato proprio in questo video qua devi fare questo bene io spero che questo video ti sia piaciuto ti ringrazio stiamo crescendo parecchio sulla pagina mi fa molto piacere proprio ieri sono arrivato a 3000 iscritti quindi sinceramente sono piccole soddisfazioni che fanno capire che il lavoro che sto facendo bene o male interessa e vengo contattato pure da alcuni colleghi che mi chiedono consigli con i quali iniziamo pure ad avere degli scambi professionali per cui se hai delle domande o dei dubbi su questo argomento o su altro scrivili nei commenti abbiamo un canale instagram sul quale puoi se vuoi puoi iscriverti per seguirci un pochettino un po' più anziché settimanalmente quasi quotidianamente o comunque quando mi ricordo carico qualche video iscriviti comunque al canale stiamo crescendo questa cosa mi ha molto piacere e ci vediamo presto ciao 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 ciao